In questo tutorial vedremo come completare un make up servendoci di scia finte che possono essere utilizzate sia ciuffetti che scia rima intera. Per un effetto più naturale ci serviremo di due lunghezze diverse, una lunghezza più lunga e una lunghezza più corta. La più lunga la applicheremo all'esterno dell'occhio in modo da allungare lo sguardo ed intensificarlo. Quella più corta l'applicheremo dal centro in poi. La prima operazione che andrò ad effettuare sarà mettere la colla in un vasetto. Chiuderemo la nostra cliente di guardare avanti, prenderemo il nostro primo ciuffetto e lo immergeremo nella colla, non prendendo un'eccessiva quantità in modo tale che possiamo nasconderla tra le ciglia. Applicheremo questo ciuffetto in fracigliare facendo una leggera pressione per 10 secondi. verso l'esterno applicheremo dei ciuffetti di lunghezza maggiore e man mano andremo a scalare di lunghezza. Da questo momento in poi, quindi dal centro dell'occhio, applicheremo la misura inferiore di ciuffetti. Questo è il risultato finale. Come vedete l'occhio destro risulta molto più intenso rispetto all'occhio sinistro dove non le abbiamo applicate. Grazie! 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 Grazie a tutti!